La tecnologia non è un settore ma un abilitatore. Può spingere ogni comparto, compreso quello agroalimentare. IOT, blockchain, big data, intelligenza artificiale contribuiscono a migliorare efficienza, qualità e tracciabilità. Si tratta di tre elementi importanti in qualsiasi sistema produttivo, ma ricoprono un ruolo decisivo in agricoltura. Che cos'è l'agricoltura 4,0? L'elenco delle tecnologie applicate all'agricoltura è lungo. Ci sono sensori che, piazzati nei campi e nei sistemi di irrigazione, monitorando ogni processo, i droni si stanno imponendo come strumenti economici per il controllo delle coltivazioni. Ma il contributo tecnologico non si limita alla produzione, rende più efficace la logistica, la gestione del proprio magazzino. Le etichette e i sistemi di lettura creano una finestra di collegamento tra produttore e cliente. Secondo l'osservatorio Smart Agri-Food della School of Management del Politecnico di Milano e del Laboratorio RISE dell'Università di Brescia, l'insieme di queste applicazioni vale 100 milioni solo in Italia, il 2,5% del giro d'affari globale. L'osservatorio ha censito nel nostro paese 220 soluzioni offerte da 70 aziende. Il 73% sfrutta dati e analytics e il 39% l'Internet of Dings. Nella metà dei casi, le applicazioni sono utilizzabili in diversi settori agricoli. Altre si concentrano invece su ambiti specifici, a partire da ortofrutticolo, cerealicolo e venecolo. Ma quali sono i vantaggi dell'agricoltura 4,0? Aumenta l'efficienza il vantaggio è prima di tutto legato all'efficienza, sia economica che ambientale. La tecnologia richiede investimenti, che però si ripagano grazie alla capacità di contrarre i costi e far crescere i ricavi. Avere un monitoraggio diffuso della produzione consente di ottimizzare i processi, capire quali sono le fonti di spreco e intervenire in modo chirurgico. Si risparmiano risorse preziose, a partire dall'acqua, per il bene del bilancio e dell'ambiente. Ma non si tratta solo di ridurre i costi. La raccolta e l'analisi dei dati permettono di gestire meglio le risorse, di prevenire le patologie e di prendere le decisioni più efficaci. Migliora quindi la qualità del prodotto e quella del lavoro qualità e tracciabilità una volta ottenuto un prodotto di qualità, per cogliere maggiori ricavi è necessario valorizzarlo. Come? Certificando l'origine del prodotto, i metodi utilidati, i sistemi di salvaguardia adottati. I clienti sono disposti a pagare se possono avere certezza sulla provenienza e la qualità di un prodotto. Basti pensare a tutte le denominazioni di origine, dall'ortofrutta al vino. Ma non solo, la sempre crescente attenzione alla filiera alimentare dei consumatori fa emergere la necessità di avere informazioni nutrizionali, certificazioni sul benessere degli animali o sulla sostenibilità delle coltivazioni. Intrecciato con la qualità, quindi, è il tema della tracciabilità. In questo caso non si intende solo la possibilità di capire da dove viene un prodotto, la tracciabilità è decisiva lungo tutta la filiera, dalla terra allo scaffale. Analisi dei dati, etichette intelligenti, blockchain e smart contract sono strumenti che, oltre a certificare l'origine, riducono i costi di intermediazione, rendono le procedure più veloci, standardizzate e quindi meno soggette all'errore umano. Il presente materiale di marketing è emesso da PICTE Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.picte, o in forma cartacea presso PICTE Asset Management, Europe, S.A., 6B, Roodoo Fortnieder-Gwenwood, L.2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni di investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui e su www.assetmanagement.picte nella sezione Risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICTE Asset Management, Europe, S.A., che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne la proprietà tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare. Quanto diminuirevi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICTE nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICTE Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICTE Asset Management. PICTE non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICTE. Unicamente per finalità illustrative.